Salve a tutti! Questo è il primo dei tre video in cui tratterò di cosa pensano i testimoni di Geova della filosofia. Prima di iniziare, metterò prima dei tre video un'avvertenza, non fateci caso se è simile per tutti e tre, non è un errore, è fatto apposta. Abbiate pazienza e ascoltate fino alla fine. Data la natura della filosofia, di cui mi sono occupato in altri video, nella pratica questo è un discorso che riguarda la libertà di pensiero in generale, soprattutto la libertà dai condizionamenti delle sette. Infatti questi video sono indirizzati non tanto e non solo ai testimoni di Geova, perché loro non cambierebbero idee nemmeno se viene Gesù in persona a tentare di convincerli. Questo video sono indirizzati soprattutto a chi non sa cosa sia la filosofia, o a chi crede che sia inutile o brutta. Infatti ci sono delle ragioni per cui una setta proibisce e condanna lo studio della filosofia. Per questo io vi esorto ancora di più a diffondere questi video il più possibile e per sostenere il canale vi invito anche a mettere like, guardare gli altri video e iscrivervi. In particolari modo vi consiglio di guardare la miniserie su che cos'è la filosofia, che vi metterò tra le schede. In questo articolo loro cercano di mostrare come la filosofia sia contraria alla fede biblica. In questo primo video cercherò di mostrare innanzitutto che il loro concetto di filosofia è sbagliato, analizzando una delle loro pubblicazioni, riperibili online. Nel secondo cercherò di mostrare che non è vero che la filosofia propriamente intesa sia necessariamente contraria alla bibbia. Nel terzo video cercherò anche di mostrarvi come loro stessi sono in parte influenzati dalla filosofia, sebbene accennerò a qualcosa anche in questo. In questo video prenderò in analisi direttamente della voce filosofia nella pubblicazione Ragioniamo facendo uso delle scritture, una delle pubblicazioni destinate ai proclamatori, che fortunatamente è reperibile online sul loro sito. E' curioso che questa pubblicazione si chiami proprio Ragioniamo, facendo uso delle scritture e non ragioniamo con la nostra testa, facendo uso della logica formale. In questo articolo definiscono la filosofia come un sistema conoscitivo che non si basa sull'accettazione dell'esistenza di Dio, ma che cerca di dare una visione unitaria dell'universo e di fare degli uomini liberi pensatori. Che la filosofia non si basa sull'esistenza di Dio è vero, la filosofia dibatte sulla sua esistenza, alcuni filosofi provano ad argomentare a favore, altri a sfavore, altri sospendono il giudizio, altri non se ne occupano affatto. Eventualmente Dio è un punto di arrivo e non un punto di partenza della filosofia, ma leggendo dopo loro con quella frase intendevano dire che la filosofia di per sé nega Dio. E' vero che oggi molti filosofi oggi negano Dio, ma non è detto che sia così, come vi ho appena spiegato. Quindi già abbiamo individuato una grave menzogna oltre che calumnia verso la filosofia. Il fatto poi che la filosofia cercherebbe di dare una visione unitaria dell'universo non è detto, questo dipende da filosofo a filosofo, Non è detto nemmeno che un filosofo si occupi per forza dell'universo, ma questo non ci interessa in questo momento, è un discorso a parte. Sul fatto che la filosofia vorrebbe fare degli uomini dei liberi pensatori è vero, o perlomeno è quello il proposito di Platone nella Repubblica. Questo è ovviamente il punto che a loro dà più fastidio, loro in questa pubblicazione citano due passi della scrittura. Proverbi 1, 7 Il timore di Geova è il principio della conoscenza, e della sapienza, cosa ripetuta anche in Salmi 111, 10. Le altre Bibbie traducono Proverbi 1, 7 in questo modo. Il timore del Signore è il principio della scienza. Gli stolti disprezzano la sapienza e l'istruzione. Io non sono un esigeta, ma di certo il passo in intende dire che Dio dà la conoscenza di tutto. Ad esempio leggendo e studiando la Bibbia certamente non si impara a costruire le case o a fare operazioni chirurgiche o a programmare PC. Evidentemente si parla di una conoscenza spirituale, esistenziale, di cose che riguardano la teologia, ma non di ogni aspetto. Infatti come spiegherò in seguito, la sapienza è un sapere diverso dalla filosofia. Inoltre in quel paragrafo ironizzano sull'ateismo dicendo che l'universo è frutto di un progetto e non del caso. Ma questa, cari TDG, è un'opinione frutto di anni di speculazione filosofica, a partire da Aristotele e Tommaso da Quino fino ai contemporanei come William Lane Craig. Questo è uno degli aspetti che i TDG hanno preso dalla filosofia. Inoltre, nello stesso paragrafo, loro a modo loro parafrasano Nice, dicendo che senza Dio è vana la ricerca di qualunque cosa il pensiero sistematico data l'irrazionalità del mondo senza Dio. Dopo di ciò dicono una cosa di una gravità assoluta, si chiedono, è realistico aspettarsi la verità assoluta da questa fonte? La filosofia o nega la verità assoluta oppure nega la possibilità di conoscerla, e non è nemmeno una fonte. La filosofia si basa sull'assenza di certezze assolute e basa la sua ricerca sulle argomentazioni logicamente fondate, per cui nessuno si azzardi a dire che la filosofia pretenda di dare risposte o di offrire la verità assoluta. Questa è la differenza tra la sapienza e la filosofia. Se ci avete fatto caso, i TDG distribuiscono dei volantini dove scrivono dove cercare la verità, dove sono le risposte, nella scienza, nella filosofia, o cose del genere. La filosofia non dà risposte ma si pone domande. Infatti in greco sapienza si dice sofia, infatti filosofia in greco non è semplicemente amore per la sapienza, ma è ricerca della sapienza, senza mai raggiungerla. Per quanto la filosofia spesso giunga a conclusioni scettiche, lo scetticismo serve per la ricerca. I TDG sanno benissimo che dallo studio della Bibbia non si ottiene la verità su Dio una volta per tutte, tanto che il corpo direttivo cambia idea periodicamente. Nel paragrafo successivo dicono che la filosofia è di origine umana, e che gli umani sono limitati. Ma grazie al cavolo, i filosofi partono dal presupposto di essere umani, e quindi di essere limitati. E ovviamente non poteva mancare una bella accusa di essere frutto di demoni e di incoraggiare a disobbedire a Dio. Ma sulla base di cosa? E comunque in logica questa si chiama fallacia dominem, me ne sono occupato in altri video, in breve, non potendo controargomentare accusano. Semplice. I filosofi cristiani non hanno mai pensato di sostituire la rivelazione con la filosofia, anzi, hanno sempre cercato di mostrare la ragionevolezza della fede. Il perché studiare la Bibbia, basti pensare a Pascal Kierkegaard. Pascal ad esempio, partiva dal presupposto che l'uomo è limitato e che la nostra conoscenza non è perfetta. Eppure lui era matematico e scienziato, oltre che prete e filosofo. I filosofi sanno che la propria conoscenza è limitata e imperfetta, per cui alcuni di essi cercano la verità nella rivelazione, a patto di mostrarne la ragionevolezza e dare ragione di ognuna delle cose che essa dice. Oppure Kierkegaard spiega come la vita secondo la carne sia completamente inutile e dannosa e di come e perché lui sia giunto alla fede. Per cui sulla base di cosa contrapporre la Bibbia alla filosofia, in seguito, non poteva mancare la citazione di Colossese 2, 8, dove Paolo mette in guardia i suoi lettori affinché la filosofia non li inganni, in quanto tradizione umana, eppure in imperspicacia, sempre alla voce filosofia. Menzionano Atti 17 e 18, in cui Paolo si era confrontato con Stoici ed Epicurei, ma ovviamente queste due correnti erano incompatibili con il cristianismo. Entrambe negavano l'immortalità dell'anima, come i TDG, tra l'altro, mi sa che Paolo ce l'aveva con loro a Ana. Entrambe negavano l'esistenza di divinità trascendenti, o perlomeno Epicuro diceva che gli dèi non si occupavano del mondo, ed entrambi credevano in una visione materialista, per quanto gli Stoici credessero in una provvedenza, mentre gli Epicurei credevano che il mondo fosse dell'aggregazione casuale degli atomi, senza alcun progetto. Tanto che gli elementi del mondo di cui parla Paolo sarebbero le spiegazioni classiche date dai filosofi ai fenomeni naturali, come i quattro elementi di Empedocle, o gli atomi di Democrito, quindi era questa la filosofia di cui Paolo parlava. Si tratta di una filosofia materialista, che negava l'aldilà, la risurrezione e negava Dio. Inoltre Paolo dice di non farsi ingannare, non dice che non è possibile farsi aiutare da essa. L'unico modo per confrontarsi con la filosofia, spiegava Aristotele nel Portrettico, è la filosofia stessa, perché per spiegare perché la filosofia è falsa bisogna argomentare. Io aggiungerei perché senza la filosofia non puoi distinguere le fallaci dalle argomentazioni corrette, ma soprattutto Paolo ci sta dicendo di non cascare nei tranelli, non che la filosofia è tutto un tranello. Ci sta dicendo di non sostituire Dio con ragionamenti umani, ma come vi ho spiegato prima non è detto che la filosofia faccia questo. La tradizione umana di cui parla Paolo non può riferirsi alla filosofia stessa, perché la filosofia, essendo antidogmatica e basata sulle argomentazioni, avendo come obiettivo il pensiero autonomo e critico, è per sua natura contrapposta a qualunque tradizione. Come spiegherò tra poco Paolo non sta nemmeno contrapponendo la fede alla ricerca scientifica, anche perché loro stessi nelle loro pubblicazioni non negano il valore della scienza. Dopodiché, per concludere, la pubblicazione inizia a criticare la cosiddetta sapienza dei filosofi. Mi dispiace per loro, ma la filosofia nasce in contrapposizione alla sapienza, cioè a qualunque tentativo umano di avere la verità. Con questo l'articolo si conclude. Per il momento non è tutto, perché il video continua con la seconda e la terza.